Eccoci, eccoci, bentornati. Facciamoci un applauso. Questo è il momento più bello appunto perché io ho l'opportunità di chiedere delle cose sia a Corrado che Rupert e per ora rimarrei sul tema della musica e con due domande veramente molto semplici perché credo che in fondo sia una curiosità di tutti, quantomeno è la mia. Cioè, quali sono le vostre musiche preferite? Ma soprattutto, siccome siete persone che non si accontentano di sapere che 2 più 2 fa 4 ma vi chiedete perché, perché sono le vostre musiche preferite? Come ha accennato Sheldrake, lui suona pianoforte leggendo la musica, quello che forse non sapete è che anche Corrado suona pianoforte però improvvisando e quindi due sono perfettamente complementari anche in questo caso. Quindi vi chiedo questo, una riflessione sulle vostre musiche preferite e poi un'altra domanda più ficcante che è questa. Può darsi che noi pensiamo di ascoltare musica bella perché secondo i nostri parametri culturali e i nostri parametri che noi chiamiamo parametri di gusto ci sembra bella, ci sembra armoniosa e invece quella musica è suonata a delle frequenze che risultano invece dannose per il nostro organismo? Vuoi iniziare tu, Corrado? Sì, volentieri, la parte più facile è cosa mi piace di ascoltare la musica, io, dunque dovete sapere brevissimamente un antefatto che io se non avessi fatto il chimico sarei andato al conservatorio, perché non sono andato al conservatorio? Perché il mio babbo mi ha detto che con la musica non ci si mangia e allora mi è toccato fare il chimico perché un po' di livello alchimista ce l'avevo fin da piccolo. A me piace sostanzialmente il jazz e uno dei pezzi che mi piace di più era proprio take five, che io disperatamente cerco di fare al pianoforte non riuscendoci, perché c'è questo problema dei cinque quarti che ha spiegato Bollani. Ma in realtà perché? Perché dietro il jazz così come è fatto, così come è costruito c'è un po' la visione del nostro tempo, c'è il non abbandonarsi alle regole. Una volta la musica precostituita doveva essere fatta così, c'era un'introduzione, c'era un svolgimento e c'era un finale. C'è anche nel jazz se vogliamo, però il jazz ha la possibilità di creare delle cosiddette improvvisazioni. E queste improvvisazioni sono, sì le regole sono queste, ma mi fai cambiare un po' qualcosa, mi fai riempire un po' dove ci sono dei buchi, ci metto del mio, perché mi sembra di essere partecipe alla creazione di quel bel pezzo. Tizio ha fatto quel pezzo, chiaro io non avevo la possibilità, la cultura di farlo, però compartecipo ad essere in qualche modo io anche il creatore di quel pezzo, non solo inventandomi alcuni aspetti, tappando alcuni buchi a modo mio, ma permettetemelo, cambiando anche alcuni tipi di sequenze e facendole a me come mi piace di più. Forse perché come lo fa l'autore io non sono tanto capace, allora per dissonanza cognitiva dico mi piace di più farlo in quest'altro modo, perché magari non sono capace di farlo come... Però questo mi dà la possibilità di essere libero durante l'esecuzione, il tentativo di esecuzione del pezzo e mi fa credere un pochino che anch'io sono il creatore dell'universo, perché un pochino ho creato questa cosa qui. Mi piace moltissimo anche la musica sinfonica, alcune cose, alcune cose no, Cole Porter, George Gershwin, quelle cose che poi hanno dato origine un pochino al jazz non modernissimo, ma comunque quello che ai miei tempi, perché io ho 70 anni, si suonava in qualche modo ed era meraviglioso. Take Five è suonata da te e poi è stata una cosa meravigliosa. La seconda parte della domanda, se vuoi, può darsi che noi stiamo ascoltando musica che riteniamo bella e invece le sue frequenze non ci fanno bene. Ci sono delle musiche che a me non piacciono, cioè soprattutto delle sequenze di note che non mi dicono assolutamente niente, però io sono consapevole di un fatto, che davanti per esempio a un quadro io non mi commuovo per esempio perché c'è un'immagine disegnata bene, mi commuovo perché ci sono dei colori che mi piacciono e questo perché sono sostanzialmente visivo, non sono poi molto auditivo e sostanzialmente non sono cenestesico. Per cui il non capire quel quadro è un problema mio perché io non ho i prerequisiti per poterlo capire, quindi sto molto attento a dire che quella musica fa schifo perché sostanzialmente potrei essere io stesso che non ho i prerequisiti per comprendere quella musica, per esempio tump 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 tump, sì ho capito, però dopo un po' mi rompo le palle, perché a me non mi dice nulla, però magari ci sarà dentro un significato simbolico meraviglioso, però è la mia non capacità, la mia incultura musicale, o forse fa veramente schifo. C'era uno studio, adesso non ricordo l'autore, c'era uno studio che si chiamava Dallo sciamano al raver che riusciva a collegare, in effetti non era neanche troppo difficile, a collegare la musica delle tribù e degli sciamani, quindi la ripetizione, a quello che accade nei rave party e in quel tump tump tump, che fatto così ricorda la discoteca di oggi, ma in realtà è il tamburo sciamanico, grazie alla cui ripetizione possiamo entrare in uno stato di trance, perché se la musica continuasse come nel jazz a cambiare tutti gli accordi del meno 10, onestamente sarebbe difficile meditarci sopra, quindi adesso sentiamo la risposta di Sheldrake. A me pure piace il jazz e ho due figli che suonano il pianoforte jazz. Io, quando suono il pianoforte, principalmente suono Bach. A me di Bach piace l'aspetto polifonico, posso ascoltarlo ripetutamente e mi porta a vivere sensazioni differenti. E, ovviamente, Bach era un grande improvvisatore, molto della sua musica era un po' come il jazz oggi. Lui era un improvvisatore, un po' come fa il jazz oggigiorno, e quindi lui poteva stare al pianoforte e improvvisare e modificare i suoni e i ritmi. Non so per quale ragione, ma io suono Bach da tutta la vita, non mi sono mai stancato di suonare Bach, ed è questo il motivo per cui continuo a suonare Bach. Io non riesco ad improvvisare al pianoforte, però ho fatto studiare pianoforte ai miei figli con un insegnante di pianoforte di jazz, e loro hanno sempre suonato e hanno imparato ad improvvisare al pianoforte. Loro sono in grado di fare quello che non riesco a fare io. E io riesco a fare quello che non fanno loro, non riescono a fare loro, io leggo lo spartito musicale. Sarebbe bello abbinare entrambe queste abilità, ma nella nostra famiglia non siamo riusciti a farlo. Per quanto riguarda l'aspetto culturale della musica, sono diventato molto consapevole di questo nel mio periodo in cui ho vissuto in India. La musica indiana è molto spesso improvvisata ed è molto variegata nella sua melodia. E' dotata di ritmi molto complessi. ed è stato per me difficile comprendere e apprezzare la musica indiana. Però mi muoveva ed era forte, potente. E mi ha sempre ricordato quanto è diverso il retroterra culturale di quella musica, diverso rispetto a quello a cui ho vissuto io. Inoltre in India hanno un senso forte dell'ispirazione divina nella musica. E noi chiamiamo musica etimologicamente anche perché viene ispirata dalle muse. E in India, quando si va a un concerto di musica, per esempio soprattutto nell'India meridionale, prima del concerto si pratica un'invocazione della divinità della musica. Sarasvati. 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 Quindi, mi piace l'idea che vedono la musica come ispirata e venendo attraverso il musicista, non solo come un'espirazione del musicista. Quindi, loro vedono la musica come un'ispirazione che passa attraverso appunto il musicista. Quindi, l'ispirazione che riceve il musicista. Bene, grazie. Grazie. Facciamolo, facciamolo. Io rimango sulle frequenze citando molto immodestamente gli esperimenti di qualcuno che voi conoscerete meglio di me. Si chiamava Clave Baxter, che col poligrafo ha sperimentato insieme alle piante, le piante nolenti, però erano costrette a stare al gioco, e avrebbe scoperto che le piante sentono le nostre emozioni, i nostri pensieri, hanno paura. Rispondono alle nostre emozioni, non solo alle nostre parole. Quindi, questo mi porterebbe a pensare che le piante sono in grado di capire cosa proviamo noi, mentre noi non siamo in grado di fare la stessa cosa con loro. Io penso a questo, penso alle frequenze che girano e che evidentemente a cui le piante hanno accesso. Mi chiedo, cosa pensate di esperimenti recenti, e se ne conosciete alcuni, in cui si coltiva il cibo con alcune frequenze, si preparano i formaggi con alcune frequenze, si fa ascoltare una certa musica alle piante, obbligandole ad ascoltarla perché loro non possono spostarsi. Questa è la mia domanda perché io conosco persone che stanno lavorando in questo senso e sono curioso di sapere la vostra opinione. Posso dire che sicuramente la mia impressione è quella che le cose vanno fatte con una certa frequenza, perché queste funzionano meglio. In fondo noi lo sappiamo, ma lo sappiamo a livello inconsapevole. Per esempio, sono i nostri antichi contadini del 1700, del 1600, che dicevano questo frutto bisogna seminarlo quando c'è la luna, oppure in questa data stagione. Perché c'è tutto un rituale che va ripetuto, che ha sempre funzionato e che quindi, senza farci troppe domande, dovrebbe continuare a funzionare. Ecco, il rituale funziona ancora meglio, secondo me, quando si capisce che tipo di scienza c'è dietro. Cioè, se il mio lobo sinistro, che è quello che fa i calcoli, fa bene i conti e dà la possibilità al mio lobo destro, che farebbe il miracolo subito di dire, guarda, io prima devo capire come funzionano le cose, il lobo sinistro, la parte maschile di me. Poi quando ho capito, allora il lobo destro, ok, puoi fare il miracolo, e a te ti viene bene il miracolo, perché è un miracolo consapevole. Gli studi che sono stati fatti, tra parentesi, proprio qui a Firenze, all'Università di Firenze, da un biologo estremamente bravo, di cui io non ricordo il nome, ma ho visto alcuni filmati, mostra chiaramente, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio scientifico, che la pianta comprende tutto, non qualcosa a modo suo, ma comprende tutto. La pianta può decidere di muoversi, di spostarsi, con i suoi tempi, col suo universo, di nutrirsi in un certo modo, e ascolta, e questo si può registrare, quale sono le mie sensazioni senza che io apra la bocca, la pianta sa se ho deciso di tagliargli un ramo. Lo sa immediatamente, e lo comunica a tutte le piante circostanti. Su questo la scienza non ha più dubbi. Evidente, la pianta lavora su una frequenza. Che tipo di differenza c'è tra la frequenza che ascolta una pianta e la frequenza che ascolta un umano? È la differenza che c'è tra il mondo della biologia animale e il mondo della biologia vegetale, perché poi c'è anche un mondo della chimica e della biologia inorganica. Noi siamo costruiti in modo tale da possedere una parte animica mentale e spirituale. Ci sono alcuni soggetti che, dagli studi che ho fatto io, non mostrano la parte animica. I vegetali, dal mio punto di vista, hanno solamente parte spirituale e parte mentale, se vogliamo, ma non hanno la parte animica, avendo ovviamente un corpo. Il mondo della inorganica, invece, ha solamente un corpo. Quindi, sostanzialmente, il cristallo non è vivo, mentre è viva una pianta ed è viva un essere, un mammifero, per esempio. Secondo il mio punto di vista. Non avendo un pezzo, ci sono delle frequenze che io non posso dare alla pianta perché lei non le può ricevere. Nello stesso modo, la pianta non può parlare con me nello stesso modo come mi parla un cristiano. Questo è il motivo di incomprensione. Ma non si deve credere che la pianta non vibri. Vibra alle nostre stesse frequenze, solo che gli manca uno dei ricevitori. Noi abbiamo tre ricevitori, le piante sostanzialmente ne hanno due. Questo è il mio modo di vedere le cose. Grazie. Io, per esempio, trovo affascinante seguire le piante in movimento quando vengono sospinte dal vento. Perché hanno uno schema, tutto loro, di movimento. Per esempio, se osservate la chioma di un albero che si muove col vento, vedrete che ci sono una serie di rami che si spostano, per esempio, in questa direzione e altri che si muovono in un altro modo. E poi ci sono le foglie che girano e si piegano con un ritmo tutto loro. Mi piace semplicemente osservare questo fenomeno. Non posso dire che capisco assolutamente e non comprendo la sua dinamica, però mi piace osservarlo perché mi piace osservare e lasciarmi coinvolgere da questo ritmo che la pianta assume. Grazie. Allora io passo al linguaggio perché viene spontaneo a questo punto andare a leggervi una citazione che parla di linguaggio. È una citazione che viene da un caro amico di Sheldrake, cioè Terence McKenna, che dice se riuscissimo, allora scusate, siamo stati intrappolati in una sorta di simulacro demoniaco creato dal linguaggio per 25.000 anni. Se riuscissimo a prendere le distanze dal linguaggio, allora cadremo in un regno senza tempo in cui l'oscurità non nasconde alcuna minaccia e tutte le cose sono viste con una sorta di vasta equanimità e tutta l'ansia abbandona i circuiti. Forse è questo che i maestri zen fanno e insegnano. Siccome stiamo parlando di musica che è un linguaggio che apparentemente sta più in alto delle parole, proprio perché non corre il rischio di essere frainteso e di creare divisioni come fanno le parole che stiamo usando anche noi oggi, vi chiedo una riflessione su questo argomento. Tema libero, Malanga. Sì, allora il problema del linguaggio è un problema che è legato all'evoluzione. Noi ci siamo, giustamente come diceva McKenna, evoluti in qualche modo. Prima parlavamo un linguaggio che era molto diverso, magari grugniti, e ora parliamo una lingua precisa, eccetera, eccetera. Ci si può chiedere se questo linguaggio rappresenta oggi l'evoluzione. Un linguaggio estremamente raffinato in cui a una parola c'è un solo significato, non si può dare due significati diversi. Quindi l'evoluzione del linguaggio in generale è legato all'evoluzione della coscienza? No, ahimè, no. Perché? Perché qual è il vero linguaggio più evoluto? Il linguaggio più evoluto non è quello perfezionato, quello che sa solamente colui che l'ha studiato. Io parlo il guatemalteco antico e posso parlare solo con un guatemalteco antico. Quindi non ho perfezionato, ho specializzato il linguaggio. Ma il vero linguaggio è quello che mi permette di comunicare con tutti. Il linguaggio che mi permette di comunicare con tutti non è quello che in ordine di tempo è arrivato dopo, è quello che in ordine di tempo è arrivato prima, cioè il linguaggio archetipale. L'archetipo, il linguaggio che qualsiasi cosa io faccia per trasmettere l'informazione da una formica a un alieno mi capirà esattamente nello stesso modo. Questo linguaggio non è il linguaggio dei gesti, ma è il linguaggio della geometria. I gesti recuperano questa geometria e quindi quando io vado verso uno, a secondo che ci vada in modo minaccioso o in modo non minaccioso, l'altro capisce immediatamente perché, per esempio, il gatto e il cane si odiano. Perché uno muove la coda quando è contento, l'altro muove la coda quando è incazzato. Quindi un cane e un gatto che muovono la coda sono destinati a non capirsi. Allora io uso sempre di fronte all'altro, è una cosa egoica che sto per dire, il linguaggio dell'altro. Perché io voglio che l'altro mi capisca. Quindi rinuncio al mio linguaggio assumendomi la responsabilità di sapere qual è il linguaggio dell'altro. Cosa che alcune volte non succede assolutamente, non è vero. E quindi... Sarebbe come dire che tu, come fai quando vai in un paese straniero e usi la loro lingua. È la stessa cosa. Cioè cerchi di entrare in contatto usando la loro lingua. Quindi sei più gentile dei due. Esattamente. Cosa che per esempio non fa la fisica quantistica. La fisica quantistica, la fisica e la scienza in generale, quella complicata, usa il suo linguaggio che è un linguaggio settario, chiuso per gruppi di elite specializzati. Ma noi sappiamo che la chiusura all'interno di un gruppo produce un abbassamento dell'entropia. Perché invece l'abbassamento, la distruzione delle barriere produce un aumento di entropia. Quindi usare il linguaggio specializzato solo per pochi... Mi viene in mente come fanno alcune sette, per esempio la massoneria. E non è bene. Non è per tutti. Invece la gnosi deve essere per tutti. Il linguaggio è anche la musica. Il linguaggio poi alla fine, quello vero lo sapete che cos'è? Una cosa quasi incomprensibile. È la forma della superficie dell'onda che propaga il messaggio. Questo dice Hawkins. Hawkins dice che è sulla superficie delle cose che c'è l'entropia. Cioè la consapevolezza, la coscienza, l'informazione. Quindi noi dobbiamo comprendere che io quando parlo col mio gatto, vi sembrerà incredibile, ma ormai a 70 anni faccio di tutto, parlo con il mio gatto e il mio gatto parla con me, ci capiamo assolutamente. Ma non perché lui abbia capito l'italiano o io mi avoli, per il semplice fatto che non sono le cose che dico, ma è come le dico che fanno capire che dalla mia bocca vengono emesse delle cose che sono a forma toroidale, dice la scienza linguistica ufficiale. Il gatto capisce inconsapevolmente la forma della superficie del toroide che contiene l'informazione e quindi in qualche modo ci comprendiamo. Il delfino quando parla a un altro, oppure quando gioca, fa con la bocca toroidi pieni di aria. Il fumatore quando fuma fa toroidi con il fumo e noi non ci rendiamo conto che quando parliamo emettiamo fonemi a forma toroidale che contengono le informazioni. Quindi l'informazione e il linguaggio che tutti comprendono inconsapevolmente, anche se non sanno di averlo compreso, è pura geometria. Grazie per averlo. Grazie per averlo. Molti teorici dell'evoluzione oggi sostengono che, scusate, gli esseri di un po' 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 di un po'. Gli esseri umani hanno imparato prima a cantare insieme piuttosto che a parlare e a comunicare il linguaggio con la parola. Quindi la musica appunto è un tipo di linguaggio. Però talune persone pensano più ad immagini, con immagini piuttosto che con le parole. E Terence McKenna, in parte, credo che pensasse e riflettesse appunto sotto forma di immagini. Noi nei sogni usiamo più le immagini piuttosto che le parole. E Terence McKenna è stato anche un esploratore di esperienze psichedeliche. E lui rifletteva e pensava in termini delle immagini che vengono prodotte nell'esperienza psichedelica. Questo permette di, attraverso queste immagini, di approfondire la conoscenza molto più di quanto non si faccia nell'esperienza da svegli. Infatti è sorprendente e interessante il fatto che gli effetti della psichedelia sono primariamente fatti di immagini. Questo si trasforma in cinestesia. Per esempio, in uno stato di psichedelia, se si ascolta musica, la musica prende forma e appunto prende una forma visiva. E quindi questa immaginazione visiva di cui noi siamo dotati è molto potente, è forte, è molto più forte appunto del linguaggio parlato, uditivo. E questa città è un esempio di quanto abbia contribuito nella nostra cultura con immagini, sculture e forme. Grazie. Grazie. Mi collego ai sogni perché è un tema di cui qualcuno mi ha chiesto prima, mi hanno detto chiedi a Malanga e Sheldrake dei sogni. Tutti sono interessati a questo tipo di immaginazione che abbiamo tutti e che continua a presentarci argomenti, situazioni apparentemente senza che noi lo vogliamo. E invece probabilmente, non probabilmente, Malanga sostanzialmente direbbe, si tratta di informazioni che stiamo ricevendo sempre da noi stessi. Ci stiamo raccontando un film, lo stiamo proiettando in modo tale da capire qualcosa della nostra waking life, della nostra vita da svegli. C'è un libro che nessuno ha letto ma tutti citano, e io non l'ho letto quindi posso citarlo, che è L'Ulisse di Joyce. Io conosco poche persone che hanno letto L'Ulisse di Joyce e personalmente neanche una. C'è un libro in cui, c'è un passaggio in cui il protagonista dice, la storia è un incubo dal quale sto cercando di svegliarmi, no? E può essere vista come una frase snob messa in bocca a un personaggio, oppure può essere analizzata e potrebbe portarmi alla seguente domanda per voi. Ma il pianeta Gaia sogna, e se sogna, essendo un organismo vivente, quindi deve vivere anche lui di immaginazione, deve sognare, tiro a indovinare. Se sogna, non c'è caso che un giorno si sveglie, una volta tolta dal pianeta la razza umana, pensi, oh mio Dio che incubo, che incubo. Cosa ho sognato? Ho sognato questi esseri che volevano rovinarmi e facevano le guerre, le carestie, ho sognato questo orrore? Sì, dunque, non si comincia con il dunque ma si dovrebbe concludere, mi diceva la mia professoressa italiana. Brava. Brava perché sì. Brevemente, la questione del sogno è legata a questo fatto, dal mio punto di vista. Noi viviamo una realtà oggettiva di tutti i giorni, virtuale, che è legata sostanzialmente alla comprensione dell'universo che ci circonda, mediata, bypassata dal lobo sinistro, cioè dalla nostra parte spirituale, dalla nostra parte maschile. Un universo maschile è questo, secondo me. Purtroppo, eh. Quindi, fatto di convenzioni, fatto di regole, fatto anche di rituali, se vogliamo, in cui quando io vedo il direttore del mio dipartimento e lo saluto, buongiorno professore, in realtà lo vorrei mandare a quel paese. Però seguo la regola, buongiorno professore oggi, buongiorno professore domani. Durante la notte, la mia parte animica, che è rimasta così, che non ha potuto parlare durante la giornata, quella si ribella. E durante la notte, io sogno che picchio violentemente il direttore del mio dipartimento. Questo perché il sogno è un bisogno, da questo punto di vista, cioè bisogna rimetterci in condizioni di far parlare anche la parte femminile di me, cioè quella che è la parte animica, che è la parte che è senza regole, che è quella che non segue il rivoluzionario. Il rivoluzionario è sempre la parte femminile. La parte maschile sono le regole. Quindi sostanzialmente di notte io do spazio a quella che è la parte che non ha avuto spazio durante il giorno. Se ne deduce che se io sono abbastanza integrato e durante il giorno sono riuscito a dare spazio anche alla mia parte animica, non ho bisogno di sognare di notte qualcosa che mi contrasti con la realtà del giorno, ma in realtà sognerò le stesse cose che avrei potuto vedere, desiderare, immaginare durante il giorno. Cosa vuol dire questo? Sostanzialmente che ci sono delle persone che non sognano. Le persone che non sognano sono o i decerebrati totali, i quali non hanno bisogno di sognare perché non gliene frega niente di capire come è fatto il mondo, oppure quelli che hanno capito tutto. Nel mezzo ci siamo tutti noi. Grazie. Corrado però ti richiamo alla seconda parte della domanda perché sono troppo curioso, ma il nostro pianeta Terra è un organismo vivente e sogna? Hai ragione, credo di no, però credo che ci sia una variante da fare. Devo sottolineare questo. Avete notato come negli ultimi tempi su questo pianeta ci siano distruzioni temporali, terremoti, maremoti, un casino incredibile, come se il nostro pianeta, Gaia di turno, si ribellasse in qualche modo alla presenza dell'essere umano. La mia riflessione è la seguente. Siccome noi siamo i creatori del nostro universo, noi creiamo questa situation comedy esterna a noi per comprendere quello che non abbiamo compreso. In altre parole, quello che noi stiamo vedendo, la Terra che ci viene addosso, il nostro pianeta che quasi ci vorrebbe spellere, in qualche modo, è la rappresentazione di una nostra interna, nascosta, profonda, non armonia. A noi non piace stare a vivere in questo modo, in questa società, e non sappiamo come fare, la parte ancestrale di noi, la più nascosta, come in un film di fantascienza Il pianeta del Lid, si intitolava, questo mostro che noi stessi abbiamo creato, Il pianeta proibito, ci viene addosso. Ecco, quindi la Terra altro non è, non un essere pensante, quindi un essere sognante, ma la manifestazione a specchio, in questo istante, della nostra mancanza di consapevolezza. Credo che la coscienza sia il regno delle possibilità. Credo che la coscienza sia il regno delle possibilità. E durante le ore della nostra veglia, le nostre possibilità sono ristrette, sono ristrette a causa dei nostri sensi, quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che ascoltiamo. Ma nei nostri sogni c'è poco limite, poca costrizione in quello che potenzialmente, possibilmente possiamo vivere e sperimentare. Quindi, un aspetto della coscienza è questa esplorazione del possibile attraverso i nostri sogni. E non sono solo gli esseri umani a sognare, molte specie animali sognano. E tutti sono lì ad esplorare le possibilità. Per esempio, molti adulti, molti bambini, ma anche molti adulti, vivono l'esperienza del volare nel sogno. Alcuni dei miei sogni più belli sono stati i sogni in cui volavo. Fino a molto di recente, nessun umano era in grado di volare. Ma potevano immaginare di spiccare il volo grazie ai loro sogni. E quindi abbiamo immagini di divinità in grado di volare, come Mercurio. Angeli in grado di volare. E, come vediamo in tutte le chiese qui di Firenze, i cherubini e i putti che sono in grado di volare. Bambini che volano, insomma. Ma oggi, grazie alla tecnologia, siamo tutti in grado di volare. Quindi i sogni sono quel regno in cui le possibilità vengono esplorate. Non solo da nostre esperienze, ma dalla memoria collettiva, gli archetipi e la memoria collettiva che funzionano per i nostri sogni, come Jung ha mostrato. Ma non singolarmente, non noi da soli che sogniamo appunto nel sonno, ma sogniamo attraverso gli archetipi, gli archetipi collettivi che abbiamo, che possediamo, come ci ha insegnato Jung. E anche il mondo spirituale ci può comparire in sogno e può comunicare con noi. E la Bibbia è piena di storie dove le persone ricevono segnali che vengono loro attraverso i sogni. Ed è così che noi, nello stato di veglia, ci sentiamo coatti, costretti, in termini di possibilità. Mentre nella notte, nel sogno, allarghiamo i confini e siamo in grado di, appunto, nel sogno, di espandere le nostre possibilità. E credo che nei nostri sogni noi ci stiamo allenando al morire. Perché quando saremo morti, potremmo continuare a sognare, ma non ci risveglieremo più in un corpo fisico. Nel sogno abbiamo un corpo sognante che è diverso dal corpo che giace sul letto. E credo che se noi sopravviveremo al nostro corpo fisico, lo sopravviveremo nel nostro corpo che sogna, capace di sognare. Credo che tutto il pianeta sogni, però riflettiamo anche sul fatto che in ogni istante il 50% del pianeta sta dormendo e quindi sta sognando. E quindi il pianeta Gaia in ogni istante sta sognando, sta sognando di possibilità che non si sono ancora materializzate. E adesso che siamo qui a Firenze, il sole è già tramontato e ci avviamo verso la parte della giornata in cui sogneremo, questa parte del pianeta attraverso i suoi sogni espanderà le proprie possibilità. Grazie. Allora io ringrazio ancora Rupert perché mi dà l'assist per un'ultima questione, poi se volete cominciare a preparare le vostre domande. Un'ultima questione è che è proprio sul futuro e quindi sul modo in cui il nostro modo di vedere le cose e anche di sognarle può costruire il futuro. Essendo noi creatori dell'universo dovremmo stare molto attenti a quello che sogniamo, soprattutto quello che sogniamo ad occhi aperti. Tendenzialmente ci sono, anzi sostanzialmente ci sono due famiglie, quella dell'utopia e quella del millenarismo, credo si chiami così. Millenarismo significa pensare che a un certo punto siamo tutti destinati a finire come razza umana perché a un certo punto la terra si rivolterà. L'utopia invece pensa che sia possibile costruire una società meravigliosa. Queste due tendenze che sembrerebbero molto lontane fra loro sembrano apparentemente riunirsi ultimamente nell'idea di golden age, nell'idea che stiamo inevitabilmente, quindi in questo concetto è millenarista, inevitabilmente stiamo andando verso un'età dell'oro. Ci sarebbero segnali ovunque e bisogna ammettere che se uno vuole vedere il bicchiere mezzo pieno il mondo è pieno di segnali positivi. Io cito sempre ad esempio il fatto che ho aperto il giornale un mese fa e la notizia principale era che due a Torino si erano menati e uno era andato all'ospedale. Bah, in definitiva, se è questo quello che succede nel mondo stiamo andando alla grande. Se questa è una notizia, perché ai miei tempi due che si menavano non finivano neanche sul giornale. Vi chiedo, stiamo andando verso questa golden age? Io ho letto proprio il vostro amico Graham Hancock che parlava in questi termini. Ma qui va detta una cosa fondamentale, come dico sempre io, l'entropia aumenta sempre e l'entropia è legata alla coscienza e la coscienza è legata all'informazione sostanzialmente. Quindi se l'entropia aumenta sempre, e questo è un principio, quindi non si torna indietro, chiaramente dobbiamo andare verso un'età dell'oro perché la nostra coscienza aumenta. Quindi sicuramente il ritmo con cui va il nostro universo sarà sempre più armonico da questo punto di vista. Questa è una certezza assoluta, assoluta, perché il secondo principio della termodinamica è così, ce lo dice quindi la geometria dell'universo, ce lo dice anche il ricordo che noi l'universo l'abbiamo fatto così, quindi non ci possiamo sbagliare. I nostri cattivi governanti non ci potranno mai governare a fondo e per sempre perché non glielo impedirà una controcorrente, un contropartito, un contromovimento, ma glielo impedirà semplicemente il fatto che l'universo non va in quella direzione. Bene, ma detto questo però, il fatto di dire che arriverà l'età dell'oro è sicuramente giusto, ma il fatto di pensare con questa frase che l'età dell'oro sia dietro l'angolo, questo potrebbe essere in realtà un problema. Perché questo dipende solo dal livello di coscienza e di consapevolezza che noi abbiamo. E devo dire, bisogna pensare al livello di consapevolezza di tutta l'umanità? Perché è questo il livello di consapevolezza medio che farà di questo pianeta un pianeta verde? Ok, e noi che cosa possiamo fare? Guardiamo il telegiornale e vediamo che ci sembra, vedendo il telegiornale, che tutto va a rotoli, sempre di più che il potere si vede sfuggire di mano la possibilità di governare su un popolo di ignoranti perché il popolo diventa sempre meno ignorante. E' per questo che il potere cerca di costruire una scuola fatta per ignoranti, che non ci insegna niente, ma l'entropia ci dice che questo progetto non funzionerà. Però, noi cosa dobbiamo fare a questo punto? Facciamo i girotondini? Facciamo un movimento politico che vada contro quello, contro quello, contro quell'altro? Le sardine, i pappagalli, le pantere, il che te pare? No. No, quello che, dal mio punto di vista è che noi non possiamo creare l'universo esterno a noi come creazione nostra, se buona, creazione armonica, se noi non siamo armonizzati dentro. Quindi la prima rivoluzione che dobbiamo fare e che porta al Golden Age è una rivoluzione interna, una rivoluzione in cui dentro di me, la mia parte animica e la mia parte spirituale, il lobo destro e il lobo sinistro, il mio maschio e la mia femmina dentro di me si uniscono in un matrimonio alchemico in cui viene fuori un'unica, sola, inseparabile, armonica coscienza. In quell'istante, inconsapevolmente, creerò anche all'esterno di me il mondo felice. Le diverse culture hanno diverse teorie, per quanto riguarda. Molte civiltà hanno la teoria secondo la quale il movimento della storia va per cicli. C'è l'ascesa e il declino degli imperi, l'ascesa e il declino della vita e così via. Tutto va in cicli. E nella teoria indiana, se vogliamo, anche lì c'è il ciclo della storia, il cerchio della storia. Si muove in cerchio. Invece pare che le cose vadano di male in peggio e che quindi siamo nella parte finale della storia. Invece il modello giudeo-cristiano che vede le cose in maniera positiva, come se il movimento fosse sempre nell'aspirazione di qualcosa di più positivo e di migliore. Per esempio, nella versione cristiana c'è l'avverarsi dell'arregno dei Cieli. E nella versione secolarizzata c'è il progresso continuo attraverso la ricerca e l'innovazione scientifica. E a partire dal XIX secolo, almeno nella cultura occidentale, c'è stata questa convinzione, questa credenza assoluta nel progresso. E i missionari di questo credo occidentale hanno ormai fatto quell'operazione di convertire tutto il mondo al credo del progresso continuo. Tutti i governi si sono convinti di questo, ma adesso le cose non vanno più tanto bene. Con il tempo, il cambiamento, che avviene e si manifesta sempre più in maniera evidente. Il cambiamento climatico che si manifesta. Io purtroppo non sento bene qua, perché non ci sono le casse. Sì, il cambiamento climatico. What do you say about climate change? That's becoming more obvious. E diventa più evidente questo fenomeno con il fenomeno del cambiamento climatico. The only other culture that has this progressivist view, I suppose, is Tibet. L'unica altra cultura che ha questa visione progressista è il Tibet. Il Bodhisattva ritorna per liberare tutti gli esseri senzienti. Che cosa ci dicono però tutte queste teorie e tutte queste visioni del mondo? Ci dicono tutte che noi realizziamo quello in cui crediamo. L'arrivo del Regno dei Cieli dipende esclusivamente dalla convinzione che questo avverrà, dalla credenza in questo. E il progresso tecnico-scientifico è impostato e parte dal presupposto che ci sia una convinzione, una credenza che questo sia possibile. Quindi molto dipende da noi, cioè dipende da che cosa noi riteniamo sia possibile. Dipende dalle nostre speranze e dipende da quello per cui noi preghiamo. Io credo che il futuro sia totalmente aperto, aperto e non determinato. E molto dipende da noi. Grazie. Allora abbiamo tempo per un po' di domande. Io devo di nuovo pregare tutti, sia i nostri due ospiti che le persone che faranno le domande. Devo chiedere un po' di brevità per forza di cose. Perché non so che ore sono. Le sette. Abbiamo una mezz'oretta di domande. Prego. Buonasera, una domanda per il professor Sheldrake. Quando oggi ho fatto riferimento alla genetica, cioè che la morfologia, la nostra forma non è portata dal gene, ho capito bene? E se c'è una sperimentazione o qualcosa che le vuole dirci per capire meglio? Sì, credo che nel comprendere lo sviluppo della forma nelle piante e negli animali... Un concetto biologico molto importante è quello dei campi morfogenetici. Cioè, quei campi che plasmano la forma. E per comprendere questi campi, un'analogia molto semplice è quella dell'architettura. Per esempio, questo edificio è composto da materiali edili fondamentali o standard, quali per esempio la pietra e il calcestruzzo. Ma c'è stato anche il piano di un architetto che gli ha dato la forma. I geni in un organismo permettono di produrre le proteine e le sostanze chimiche necessarie per la vita. Ma queste di per sé non producono la forma. Per esempio, la forma di questa struttura, di questo edificio, non è determinata dalla consistenza, dalla materia che compone il calcestruzzo, il cemento. Se per esempio ci fosse una forma mutante della pietra che costituisce questo edificio, se mutasse quella pietra, questo edificio potrebbe prima o poi crollare. Quindi, per esempio, le sostanze chimiche e le proteine potrebbero avere un impatto sulla forma, ma non possono spiegare la forma. Ci sono esperimenti che si possono fare per chiarire e spiegare meglio questo. Sì, ne parlo nel mio libro, la presenza del passato. Mi piacerebbe darne una spiegazione qui adesso, ma mi è stato chiesto prima di limitare le mie domande e tenerle breve. Quindi non posso entrare nel dettaglio. In ogni caso il libro è in vendita qui. Se ne vuole. Una piccola domanda tecnica per Stefano dal pubblico. Il cd piano solo è registrato in 432 Hz? Ah, che bella domanda. No, purtroppo no. E gli altri? No, il mio prossimo disco è registrato a 432 Hz. Io arrivo con calma alle cose. Ho dovuto prima controllare tutti i calcoli di Malanga, poi ho deciso di registrarlo a 432 Hz. Buonasera. Una domanda sulle frequenze a 432 Hz e quella differenza con i 440 Hz. Nel caso qualcuno avesse l'orecchio assoluto, supponiamo, no? Che è la fortuna di averlo. Quindi come funziona a livello, come influisce a livello mentale aver sentito per una vita una frequenza in un certo modo e saper riconoscere una nota e sentirla a 332 e non saperla riconoscere? Però tu hai detto di avere l'orecchio assoluto, giusto? Allora la domanda è per te. Sì, diciamo che è per me. Però non so chi voglia rispondere. Se Corrado vuole provare a rispondere. Banalmente io devo dire che non lo posso sapere sostanzialmente perché non abbiamo una sperimentazione di questo tipo. Quindi non ho la più palidea di cosa possa succedere, però ho una ipotesi di lavoro su cosa potrebbe succedere. La scienza funziona così, prima devi fare un'ipotesi, poi devi verificare se è vera. Perché se non sei capace di fare un'ipotesi non puoi andare da nessuna parte. Quindi quando non si sanno le cose bisogna fare delle ipotesi. La mia ipotesi è che secondo me il 432 si sente perfettamente. Io che non ho l'orecchio assoluto, neanche l'orecchio lontanamente avvicino all'assolutezza, quando ieri di nascosto, mentre non c'era nessuno, ho provato quel pianoforte e ho detto cazzo ma questa è un'altra cosa. Cioè lì ho sentito che dentro di me sentivo esattamente che questo era quello che doveva essere. Credo che chi abbia l'orecchio assoluto lo identificherà immediatamente, avrebbe l'orecchio assoluto a 432, come ce lo ha a 440, con in più l'idea che quel suono è molto meglio, è più bello del 440, perché è bello esteticamente, perché c'è qualcosa che ti vibra dentro e non so come dirlo, te lo fa sembrare, è diverso. Naturalmente aggiungo una cosa per i non addetti lavori, che cos'è l'orecchio assoluto? L'orecchio assoluto è quella capacità di riconoscere le note, di dar loro dei nomi, per convenzione, quindi di riconoscere quelle frequenze e poter dare loro il nome che usiamo, la, la bemolle, sol, sol bemolle. Quindi in effetti se poi l'ai a 432 o 440 probabilmente non importa, chi ha l'orecchio assoluto lo riconosce in quanto l'ai si porta presso questa informazione. Anche perché la differenza di 2 Hz tecnicamente non si sente, anche se le risonanze magnetiche nucleari che hanno fatto al cervello umano mostrano come si sente benissimo che il nostro cervello percepisce, per esempio, frequenze di 8 Hz, di 5 Hz, di 7 Hz, l'orecchio o no? Ma il corpo le percepisce. Quindi in qualche modo il 432 come differenza al 440 vi posso assicurare che si sente. Prego. Chiedo scusa per questa seconda domanda, ma non volevo perdere l'occasione di sentire l'opinione di tutti quanti, ho spreso il maestro Bollani, che se vuole mi risponderà in musica, sul fatto che io trovo sul palco l'onda e la particella. Il professor Sheldrake, che dal mio punto di vista rappresenta l'onda, perché parla del mare di possibilità, perché parla del profeta Ezechiele, è come di un visionario che faceva uso di allucinogeni e quindi quello che ha visto, non l'ha visto ma l'ha sognato. Il professor Malanga che invece dice, noi alla fine, l'entropia ci dice una cosa certa, che noi finiremo in un punto, la particella, e quindi il futuro è determinato, non ci sono altre possibilità. che gli alieni portano via le persone e le riconsegnano con le cicatrici sulla schiena e i punti visibili, quindi l'alieno esiste ed è anche fisico. Sì, arrivo immediatamente al punto, volevo sapere in questo contesto come la pensate riguardo al ritornare a casa. Il professor Malanga ha detto, ritorneremo finalmente tutti a casa. Dove sta questa casa e come può finire, secondo voi, una cosa che non ha avuto inizio, perché il Big Bang non è mai esistito, perché il tempo non esiste, e dal mio modesto punto di vista, quello che non ha inizio non può avere una fine. Grazie. Accidenti. Chi vuole... Arca, la devo ripetere tutta? No, la parte finale, lui vuole sapere un po' il nostro punto di vista su questo argomento. Lui dice una cosa che non ha avuto inizio, come è possibile che abbia una fine, se non esiste il tempo. Io ho riassunto molto malamente, scusami, ma dovevo... Scusate, io sto traducendo per il professore, quindi quando si fanno le domande, se per favore tenete presente che c'è uno straniero, questo aiuta, un atto di spitalità, no? Avete sentito, sì, sì, quindi se le domande vengono fatte un po' più lentamente... Vi faccio portavoce, perché la traduzione simultanea non è un miracolo, cioè ognuno si assume la propria responsabilità. Scusate. Grazie, grazie, grazie. La so, vogliamo sentire... Chi vuole rispondere? Non so chi vuole rispondere, chi ha qualcosa di... La so, io posso cominciare se volete. La so. Allora, andiamo su. La so. La sa Corrado, facciamo rispondere Corrado, così siamo a posto. La so. Allora, brevemente, l'idea di... mi sembra che ha colto una buona idea di questa onda particella. Noi viviamo in realtà duale, onda e particella. Forse in questo istante io rappresento più una particella e magari scendrei, collega Sheldrake, più l'onda. Però vi posso assicurare che ci stiamo intescambiando anche ieri nel parlare insieme. Il problema è il seguente. La particella è la consapevolezza di sé. Tu hai capito chi sei, dove sei, quanto pesi, che energia hai. L'onda è, tu sei dappertutto e quindi non c'hai la capacità di sapere esattamente localizzarti nello spazio-tempo. In fisica quantistica l'entropia di un'onda è infinita. L'entropia di una particella vale sostanzialmente zero, cioè è il massimo valore dell'entropia. Il problema è, mano a mano, che noi dall'inizio dell'universo, onda, siamo qui, siamo dappertutto, come un bambino piccolo, che crede di essere al centro dell'universo, crede di esserci solamente lui, crede, perché è molto egoico, che tutto il resto sia al suo servizio. Il bambino piccolo è sostanzialmente quello che crede che gli altri non ci siano. Ci sono solo delle propagazioni di te. Quella è un'onda. Mano a mano che il bambino piccolo comincia a capire la realtà dei fatti, a un certo punto comincia a capire che vive in un mondo duale. Quello è l'istante in cui comincia ad avere paura di andare, perché il corridoio è buio, nella sua cameretta si fa accompagnare dalla mamma. Poi c'è una terza fase, in cui tu hai capito che gli altri, e per questo che avevi paura, gli altri in realtà non sono altri, ma sono una parte di te. Quando cominci a capire questo, stai diventando particella, ma non hai più paura del buio, perché non puoi avere paura di un'altra parte di te. Questo è l'aspetto fondamentale. Quando tu arrivi a essere particella, alla fine non è che ti sei dimenticato di essere onda. Il momento finale, dal mio punto di vista, è aver fatto l'esperienza dell'onda, aver fatto l'esperienza della particella, e scegliere di poter essere onda e particella quando vuoi, oppure insieme. Come Marishi Maesh, o Krishnamurti, dice, Krishnamurti, dice, sostanzialmente, se sono di là, nel mondo di là, vedo le cose come onda. Se sono di qua, quando fa l'intervista con Bohm, che è un fisico quantistico, non mi ricordo più qual era l'esperienza di là, e si può avere solo una consapevolezza alla volta, o coscienza di onda, o coscienza di particella. Io credo che si possa andare avanti, e il punto finale è essere onda e particella insieme, oppure scegliere se vuoi essere onda, o vuoi essere particella, ma hai fatto l'esperienza delle due cose. L'inizio e la fine, sostanzialmente, quello che esiste è l'inizio della realtà virtuale e la fine della realtà virtuale. Avete visto che i fotoni finiscono? Questo universo fatto così finisce, ma quello che non finisce è quello che non è mai giustamente cominciato, cioè la realtà reale. Questa volta la coscienza, che prima era inconsapevole di sé, attraverso un piccolo step, l'universo, ha capito chi era. Non c'hai più bisogno dell'universo, non hai più bisogno della fisarmonica, del pianoforte per suonare, non hai più bisogno di vedere che differenza c'è tra un pianoforte a 432 e uno a 440, perché tu sai tutto. A quel punto non ha più necessità la realtà virtuale, quindi questa realtà si spegne. Buonasera a tutti. Una domanda che è da veramente parecchi anni che mi pongo. Come mai alcuni di noi nascono e si appassionano, ad esempio, alla musica rock, la sentono proprio dentro, risuonano, altri viceversa, ad esempio musica reggae, altri ancora alla tecno, ok? È forse una questione genetica, è forse una questione di compagnie giovanili, è forse una questione di campo morfogenetico, questa è la domanda. Posso rispondere io velocemente? Soprattutto è un fatto culturale, io l'ho capito analizzando una barzelletta, perché qui parliamo spesso di miti e leggende, ma anche le barzellette sono fondanti, che la storia è molto semplice, sono due giamaicani, la domanda è questa, la barzelletta è costruita su una domanda, anzi, è quasi zen, cosa dice un giamaicano all'altro giamaicano quando finisce la scorta di marijuana? Lo guarda e dice, chi è che ha messo sta musica di merda? Non so se ho risposto alla tua domanda, in parte. con tutto il rispetto per il reggae, che piace anche a me, però, insomma, era per dare l'idea della cultura che ci permea. Non so se Rupert vuole rispondere a queste domande. per me sarebbe una questione da porre e da esaminare, studiare in maniera empirica, fare un test, per esempio, scientifico. Per esempio, si potrebbe testare, sperimentare se le persone che preferiscono queste diverse tipologie di musica hanno, per esempio, dei ritmi e delle armonie interiori che sono diverse, già per cominciare. oppure se sono invece comportamenti condizionati dal loro vissuto e dalla loro esperienza pregressa. Si potrebbe addirittura fare un dottorato di ricerca su questa domanda. So for me, I don't think there's necessarily an a priori answer. I think it's an experimental question or research question. Io non credo che ci sia una risposta a priori a questa domanda, ma semmai è una domanda che potrebbe indurre a una sperimentazione empirica. Buonasera, volevo fare una domanda al professor Malanga. Volevo chiederle la sua interpretazione personale su una famosa frase di Gustavo Rol che dice ho scoperto una tremenda legge che lega ripeto, la frase era ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde alla quinta musicale ed il calore. Allora faccio una piccola premessa perché io penso avendo studiato il caso di Rol da vicino perché ho conosciuto personalmente due biografe della vita di Rol che erano due sue giovani assistenti di cui non farò il nome però sono facilmente intuibili perché sono molto conosciute sono tutte e due addotte questo mi fa pensare che siccome simili a similibus con Creantur anche Rol fosse addotto allora mi sono andato a leggere quello che diceva e ho scoperto effettivamente che c'era un esserino luminoso dentro di lui che gli diceva cosa fare in quel contesto Rol è una persona che vive se questo è tutto quello che sto dicendo è vero una sua esperienza di cui non ha capito granché lui pensa di essere in qualche modo toccato dal Dio o dall'alieno buono che gli dice cosa fare come se lui fosse un prescelto lo dirà anche lui cioè come il braccio del Signore io faccio i miracoli perché il Signore me lo permette in quel contesto la sua parte animica come succede nelle parti animiche degli addotti ha la capacità di vedere l'universo in alcuni istanti della sua esistenza da un altro punto di vista out of the body fuori dal corpo e quindi comprendere come è fatto l'universo in quel contesto dentro di sé non sa esprimerlo bene poi lui lo esprime a parole e dice l'asse dello spazio del tempo e dell'energia e dice col colore verde con una misura che identifica il calore cioè l'energia e con una misura che identifica sostanzialmente il tempo che è la frequenza e quindi spazio, tempo, energia dette da Rol col suo linguaggio a quel punto ci ha dato un'informazione in più perché Rol parla esplicitamente del 432 parla della quinta e noi il 432 è la quinta matematica il la quinto è quello che ha 432 questa è la mia interpretazione a tutt'oggi dell'esperienza di Rol riusciamo credo a finire la fila non credo diamo ancora spazio a due domande brevissime con due risposte coincise ok perfetto salve buonasera volevo fare una domanda al professor Malanga riguardo le slide che ha fatto vedere prima e quando asseriva che la la gravità non è una forza in particolare conosce Massimo Corbucci un fisico italiano e il suo lavoro riguardo il vuoto quanto meccanico ecco anche lui asserisce che la la gravità non è una forza quindi volevo un suo parere e se c'è un collegamento tra la teoria evidionica e appunto la teoria del vuoto quanto meccanico grazie ovviamente sì c'è una relazione Corbucci dice anche tra le altre cose se non mi ricordo male che il bosone di X non esiste quindi siamo anche un po' d'accordo su questa cosa qui il vuoto quanto meccanico è la seguente cosa è quel posto da dove nascono gli evidion da dove nascono quelle cose che si dividono in fotone e antifotone è quello che la fisica quantistica chiama il mare virtuale di particelle dove non c'è niente ma non perché non ci sia niente perché c'è tutto il contrario di tutto insieme quello che si vede sostanzialmente è che vicino a un buco nero vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero si creano particelle e antiparticelle una delle due cade per gravità sul buco nero e l'altra che è l'antiparticella evapora in realtà in realtà è il contrario l'antiparticella cade nel buco nero e la particella evapora in questo modo noi vediamo sostanzialmente secondo Hawkins che i buchi neri evaporano perché mentre la materia e l'antimateria si annichiliscono sull'interno del buco nero noi vediamo un'uscita di materiale dal buco nero e quindi è la famosa radiazione di Hawkins ma quello che ci importa a noi è capire che in quell'istante per spiegare questo abbiamo bisogno di un punto in cui si creino due cose una cosa cade sul buco nero e l'altra cosa viene fuori lì si dimostra tecnicamente che esiste proprio questo mare virtuale di particelle e di antiparticelle ancora come i fotoni riescono a passare da qui a lì se tra qui e lì non c'è niente c'è il vuoto il fotone da qui a lì non ci può arrivare quello che spiega come i fotoni si spostano è il piano virtuale delle particelle antiparticelle una particella un fotone scompari da qui e compare un pochino più avanti scompari da qui e compare un pochino più avanti non è lo stesso fotone che è partito che arriva in fondo quindi è il rapporto che c'è tra i fotoni e le particelle e le antiparticelle che porta avanti l'informazione che il fotone porta con sé è l'evideon sostanzialmente quello che non c'è nella fisica moderna è che siccome la fisica moderna pensa che l'antifotone non esista allora lì si frega con le sue mani perché quando un elettrone e un elettrone nascono va bene ma quando un fotone e un antifotone nascono non va più bene cosa succede vicino al buco nero vicino al buco nero viene fuori un fotone e un altro fotone che sono uguali perché sono due particelle virtuali una non si sa perché deve cascare attratta dal buco nero come gravità e l'altra non si sa perché se ne deve andare non si sa perché perché se i fotoni poi non hanno massa non si sa perché visto che la piegatura dello spazio-tempo non c'è non si sa perché un fotone deve essere attratto dal buco nero se invece tu vedi che c'è un fotone e un antifotone scopri che il fotone che ha massa viene attratto dalla massa del buco nero l'antifotone nell'istante in cui si sta creando scompare e tu cosa vedi? Nero bisognerebbe che gli astrofisici rivedessero un attimino la loro teoria e forse prendessero in considerazione il buco nero come radiazione di antifotoni una domanda per una domanda per Corrado Malanga che saluto sono Tom Bosco Nexus non si vediamo da una vita la domanda è molto semplice volevo alla luce di quello che hai raccontato oggi sapere qual è la tua posizione in merito alla teoria dei molti mondi di Evere Terzo degli universi paralleli delle realtà alternative tutto qua grazie allora esistono diversi approcci perché l'approccio normale della scienza non funziona non è fa facola tutte le parti allora molti si sono inventati degli approcci completamente differenti uno dei tanti approcci è la teoria delle multidimensioni dei multimondi delle molte cose guardate che quello che si scopre è che tutte queste teorie hanno qualcosa di valido hanno un principio di validità sostanzialmente e che sono al mio punto di vista visioni parziali dell'universo evideonico vediamo come l'evideon spiega anche questo ognuno di noi crea il suo universo io vedo un albero di fronte a me ma l'albero io lo vedo così perché credo che sia fatto così perché ho la consapevolezza di vederlo così un altro mio amico crede di vedere lo stesso albero ci confrontiamo ma vi posso assicurare che vediamo due alberi molto diversi per sapere questo basta prendere cosa che noi abbiamo fatto per esempio in una classe ma soprattutto in un convegno proprio a Londra una volta che ero a Londra many years ago a un convegno di ufologi abbiamo proiettato per un secondo la immagine di un ufo e abbiamo detto alla gente di disegnare quello che avevano visto c'erano 50 delegati di tutte le nazioni abbiamo avuto 50 disegni che non avevano niente a che fare l'uno con l'altro ognuno aveva visto quello che aveva creduto di vedere questo che cosa vuol dire che noi vediamo con la nostra consapevolezza la nostra coscienza all'esterno di noi che noi creiamo l'universo che stiamo vedendo e lo creiamo così perché crediamo che l'universo debba essere così quindi l'universo ci riporta addosso l'immagine che noi ci aspettiamo questo da un punto di vista di multi mondi di multi universi ci fa pensare che ognuno di noi sia una bolla dentro un'altra bolla che ognuno di noi sia un multi universo e che questi multi universi convivano sovrapponendo sovente le loro equazioni quantistiche per cui a volte abbiamo quasi l'idea di vedere le stesse cose poiché la mia consapevolezza e la tua consapevolezza di quell'albero sono quasi uguali e allora se non ci facciamo troppe domande pensiamo di vedere lo stesso albero non pensiamo di vedere due creazioni la mia e la tua che sono per puro caso legato alla nostra consapevolezza uguali quindi all'interno delle video c'è la matrice di questo multimondo fatto di molte bolle ognuna delle quali è uno di noi grazie a Corrado e contestualmente ringrazio anche Mike che è stato così bravo e gentile nel tradurre tutto il giorno ringrazio Rupert e il Drake ringrazio tutti voi e chiamo Massimiliano per fare gli ultimi saluti di rito giusto? si ringrazio tutti coloro che sono rimasti per questa interessante tavola rotonda e ovviamente volevo ringraziare anch'io Mike per il grande lavoro svolto da interprete grazie Mike prima di ecco prima di concludere perché non abbiamo ancora finito del tutto abbiamo lasciamo le note finali al grande maestro Stefano Bollani volevo ringraziare i media partner l'associazione Il Bardo Armonia Mundi Il Lupo Il Contadino Nexus Edizioni Medio Cielo Associazione Astrolabs e Cinema Audion di Firenze per il supporto poi non da meno che cacci strumenti musicali e ovviamente il grande service audio luci Marchingegno di Firenze un grande applauso anche per loro grazie vorrevo chiamare lo staff sul palco per un saluto una foto tutti insieme forza dunque nel frattempo chiaramente Rupert Sheldrake grazie mille per essere stato con noi in questa giornata e grazie a Corrado Malanga di nuovo un grande applauso per i nostri relatori ecco lo staff in e-out spazio interiore organizzatore dell'evento e lascio l'ultima parola Elisa che ahimè due cose grazie di cuore grazie veramente per il successo di questo evento è dovuto anche a voi bravissimi relatori splendido pubblico chiudiamo in bellezza e a tutto il casino che c'è in questo mondo diamogli questo schiaffo morale grazie io corro corro al pianoforte intanto prego maestro dimmi vado? senti la faccio più veloce mi dispiace ma devo farla più veloce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti se non la sapete non fatela no seguitemi seguitemi grazie a tutti 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 a in e out spazio interiore corrado rupert mike grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti